Come sarà la mobilità del futuro? Molto semplice, ci abitueremo, utilizzeremo le vetture elettriche, piccole, medie o anche grandi, per tutti i giorni, per l'attività giornaliera di tutti i giorni. E cosa succederà? Succederà che per fare un viaggio lungo, proprio per non avere l'ansia di autonomia, perché le auto vetture elettriche hanno un'autonomia limitata, seppur importante ma limitata, saremo non costretti ma comunque per i lunghi viaggi, il treno, l'aereo, ma per spostamenti fuori porta andremo dal concessionario e noi leggeremo una vettura sportiva, un monovolume, un SUV, un giardinetto. Ecco, io vedo così la mobilità del futuro.